Sotto la guida delle sette stelle è stato tramandato di generazione in generazione l'Okuto Shinkai. Un campo arcano e micidiale che mediante la concentrazione della propria energia nei colpi è in grado di distruggere il corpo dall'interno. È passato molto tempo, vero Kenshiro? Combattere contro tutti quegli uomini equivale ad una contatta morte. Quanto tempo ancora dovremo vivere nel terrore? L'esercito si attacca! Non potrai mai sconfiggermi! Solo tu puoi battere il sacro imperatore. Tu, il successore della divina scuola di Okuto. Ad ucciderti sarai il pugno di un mondo sprofondato nel caos. Non puoi nulla contro il destino di imperatore che mi apportiene! Kenshiro! La tua vita avrà termine fra soltanto tre secondi. problemou i licitoramenti, alla軍z come negatività. Qua passare la tua vita. Per że è la tua vita! Qua passare THE Gaudo? C journey! Klopp ti prendono ponerle,